buona domenica buongiorno amiche buona domenica in allegria con questa bellissima fascetta skin care di mini mouse super carina amiche mie guardate dietro c'è un disegno l'alix c'è scritto arcobalenoso scritto dal nostro bellissimo e dolcissimo opinionista io super contenta di questo disegno ma anche di questa bellissima fascetta skin care mi manca solo il nasino nero come sempre coconna a modi lottatori di sumo e amiche mie il pensiero carino di oggi è bisogna anche giocare ce l'ha scritto l'opinionista è super carino questo pensiero ha ragione bisogna anche giocare e io sono super d'accordo con lui sapete che io amo tanto guardate le unghiette che carine un po mini mouse anche loro è un rosso che tende al rosa molto molto carine io sono super d'accordo col nostro opinionista assolutamente bisogna anche giocare ridere scherzare e non prendersi troppo sul serio e noi oggi rideremo e scherzeremo assieme amiche mie stiamo già applicando il prodottino di sciseido la lozione addolcente che tampono come mi avete consigliato voi e nella zona del contorno occhi ma non solo applichiamo una crema contorno occhi di sciseido della linea i buchi è una high correcting applichiamo bene massaggiando con gli anulali che sono le dita più gentili nel contorno occhi nel contorno labbra e nella zona tra le due sopracciglia sapete che questi sono i tre punti in cui amo prevalentemente applicare la crema contorno occhi bisogna prevenire le piccole rughette e amiche mie io ne ho già qualcuna perché ho ben 43 anni ma insieme a voi tutti i giorni faccio schincare quindi preveniamo stiamo tamponando il siero concentrato attivatori di giovinezza di lancome l'advanced genifico un momento di relax veramente incredibile per me amo tantissimo il momento della skin care mi fa letteralmente rinascere e mi rilassa tantissimo questa invece amiche è la crema un concentrato attivatore di giovinezza sempre della linea advanced genifico di lancome mini cremine per grandi risultati le avevamo trovati tutti chi più in omaggio chi nel calendario dell'avvento super carine e nel collo amiche come sempre finché non è finito che ce n'è ancora un po la crema collo e decolleté di clarence l'extra firming collo e decolleté un trattamento giovinezza decolleté collo levigante e rassodante e non dimentichiamoci della crema solare in questo periodo stiamo utilizzando la daily defender di pupa fluido protettivo sette fattori con ginseng indiano ed spf 50 una crema eco friendly nel viso collo decolleté e manine e nelle manine applichiamo anche una crema di amerigo la soft hands crema nutriente mani e unghie che rigenera e idrata l'olio di olivo e di avocado e oggi applichiamo anche un primer bellissimo di pupa di bright and meds elizir super carino è un primer siero illuminante per il viso massaggiamo delicatamente questo bellissimo primer super super carino mi piace tantissimo ma gini pini brufolini e le occhiaie da pandina amiche noi li contrastiamo come tutti i giorni con i correttori e con il fondotinta il correttore che applichiamo oggi è di max factor il numero è lo 001 ed è in stick e mi raccomando un po di fondotinta oggi utilizziamo un fondotinta cioccolatoso e super scuro di revolution light filter f13.7 super carino questo fondotinta di revolution ma è anche super scuro e lo sfumiamo con un fondotinta molto più chiaro di pupa un fondotinta ultra levigante effetto perfezionatore con spf 6 e il numero di questo fondotinta è lo 001 devo dire che dà un effetto perfezionatore incredibile ed è veramente a lunga tenuta mi piace tantissimo questo fondotinta è a una croprenza medio alta devo dire niente niente male la sfumatura che otteniamo è molto carina guardate il risultato del colore scuro con quello chiaro a me piace ovviamente sfumare di più verso il collo sempre più chiaro per dare un effetto molto naturale la cipra che utilizziamo oggi è di catrice è la soft glam filter powder in colorazione 010 beautiful you super carina all'interno c'è il verde il beggiolino e il viola per dare un effetto super wow al nostro incarnato e il blush di oggi invece è l'extreme blush radiant di pupa un blush compatto effetto luminoso in colorazione 030 un pesca che è veramente incredibile la fine del mondo questo pesca bellissimo come bronzer invece utilizziamo l'ever bronzer blush compact powder di clarence è molto bella questa piccola palette noi di questa palette dove all'interno c'è anche l'illuminante e il blush oggi utilizziamo solo il bronzer con l'effetto super scolpito con la mossa del coniglio e invece il lip balm di oggi è della linea disney mickey and friends ed è il cherry shine di mini mouse ovviamente non potevamo non utilizzare questo labello bellissimo che garantisce 24 ore di idratazione alla ciliegia ed è super carino così sono proprio mini amiche mie con questa fascetta di skin care di mini ma anche il lip balm mi piace tantissimo è super profumato questo lip balm ma non poteva mancare un tocco di volo e un busto di bella oggi è il lip plumping che amo più di tutti balsamo labbra all'importante effetto volume istantaneo e la formula è vegana garantisce un pizzicore fino a ben due ore attenzione attenzione è l'opinionista che gli parla oggi bisogna anche giocare strega comanda color rosso dalla palette di mini mouse di revolution evviva mickey io super contenta di questa palette mini 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 mi piace tantissimo è la palette di mini mouse di revolution è bellissima all'interno ci sono tantissimi ombretti e anche tantissimi illuminanti guardate che bello questo illuminante super carino e le colorazioni sono veramente variegate degli illuminanti applichiamo come sempre il nostro amico scotch di carta e il primer occhi di revolution in colorazione light io letteralmente innamorata di questo primer non posso più farne a meno mi è piaciuto tanto quello di kiko ma mi piace tantissimo anche questo di revolution e io super happy ecco amiche mie bisogna anche giocare ci diceva così all'interno del video col bigliettino il nostro amatissimo opinionista ed è vero abbiamo continuato a giocare utilizzando assieme la palette di mini applichiamo a tutta palpebra questo bellissimo rosso e poi sfumiamo con un ombretto dorato e un po' di illuminante rosa per sfumare questo bellissimo rosso e guardate l'effetto è super super carino devo dire che mi piace veramente tantissimo lo sfumiamo bene con un pennellino morbido e l'effetto secondo me è veramente incantevole un tocco di eyeliner devo dire che oggi non può mancare con questo bellissimo ombretto anche per dare di più il senso a me che mi fa venire il senso della codina di mini questa codina nell'occhio super carino guardate mi piace tantissimo e nella rima inferiore mettiamo un pochino di rosso scuro rosa molto 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 bello e come mascara oggi utilizziamo il get big lashes volume curl di essence che è rosso pure lui nel pack oggi abbiamo avuto una prevalenza di prodotti rossi in onore di mini mouse e nel secondo occhio amiche andiamo ovviamente oggi a creare lo stesso look e siamo quasi arrivati alla fine io sono super super curiosa di sapere se il make up di oggi ispirato a mini vi piacerà oppure no sapete che io amo tantissimo sono super fan di mini mi piace tanto perché è carina è allegra e soprattutto è scura scura come me amiche io e mini abbiamo gli stessi cappelli neri mi mancano solo le due orecchiette mi piace tanto soprattutto perché utilizza il rosso ha il fiocco rosso anche a me piace tantissimo il rosso sapete che anzi più che mi piace mi dicono che mi sta bene il rosso quindi mi è piaciuto nel corso del tempo all'inizio invece non mi piaceva tantissimo perché avevo paura che fosse un colore troppo appariscente e poi invece col passare del tempo ho imparato ad amare anche questo colore ma siamo giunti praticamente alla fine anche del look del secondo occhio il make up del secondo occhio io super curiosa di sapere voi come state siete contente che oggi è domenica cosa fate di bello oggi fatemi sapere come sempre nei commenti come state com'è il tempo da voi e se siete contente che è domenica ma anche fatemi sapere se vi piace questo make up ispirato a mini attacchiamo anche oggi un brillocco rosso con un po' di colla per sopracciglia questa colla è di Emed ed è super strong molto molto forte e nelle labbra mettiamo un tocco di Fet Oil il lip oil di NYX Professional Makeup la colorazione è News Feed Fold 05 ed è rosso sulle labbra risulta un rosso rosa abbastanza chiaro simile allo smalto che ho nelle unghie molto carino l'effetto a me piace tantissimo mi fa letteralmente impazzire è proprio come immaginavo oggi questo make up rosa nella sfumatura ma rosso e intenso allo stesso tempo e io amiche sono super felice che sia domenica siamo già arrivati alla fine come sempre io vi saluto vi mando un bacio grande 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 ci vediamo nel video del pomeriggio e ci sentiamo nei commenti amiche io scapo a fare colazione ci vediamo dopo ciao amiche buona giornata